Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto Bella vecchi drama li siamo i Grananas e siamo tornati oggi con un nuovo video di FIFA Incredibile, incredibile Abbiamo cambiato postazione Abbiamo cambiato postazione Siamo messi tipo, cioè, boh, lo capire da soli comunque Vogliamo provare questa postazione che abbiamo attaccato ovviamente la Play Nel coso dove di solito facciamo il video di in segreto e cazzi vari Perciò vogliamo vedere se vi piace, se vi piace ce lo dite Noi usiamo sempre questa posizione, se no torniamo in quella dove siamo così e scialla Comunque noi facciamo cose casuali Allora, oggi che facciamo praticamente? Che bella la maglia Stazione di gioco, oggi che cosa facciamo? Mettiamo tutte le cose in alto Allora, tipo velocità scatto, io direi un bel 100 Velocità scatto, c'è, associazione 100 Lo tiri tiri via la porta Zero errore tiri? Sì Mettiamolo nei passaggi 90 Mamma mia, brutto Mettiamo 10 No, dai, che cazzo Velocità passaggi 10 Con errori No, 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 fai 100 Cioè nel senso che se tu la passi Vaffanculo Vaffanculo Freganza e fortuni 100 Già c'è stava Già c'è stava, già c'è stava Nell'altro match Si parte E prevede una partita molto malata Mamma mia Vai subito Non tira, eh Palla mia Boh Sei fortunato, sei fortunato Ma davvero? Sì Non ci credo Errore passaggi No, non ci credo Ma che porti Ma che va dai Jim, John, Zhu, Zhuang Ma che è? Ci ha fatto un tiro da centrocampo Dai, andiamo, andiamo Oddio Ma che cazzo? Sei fortunato per me Per far passaggio Non fanno un passaggio fatto bene No, non fanno un passaggio che sei fortunato Ma che è questo qua? Battaglia Oh Daniele, è grande È battaglia o questo? No, no, si vedessimo essere Ma grande No, sei fortunato Aspetta Boh Ma come l'ho parata? Sei rincontrato E tu? E muo, io non la passi No, 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 stava, non importa Dai, chi è muo? Jim, con cui Ma grande No, amma che io Passaggio filtrante Eh, che cazzo? Ah, grande No, vabbè Battaglia Ciao, battaglia Sì, però che palle Guarda Mancomi li dà palla Guardano che fame Era palla mia Che cazzo di passaggio è? Madonna Sì, io filtrante Oddio 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 Guardalo No Sì, 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 grandi Agrandi Agrandi Boh, la botta Ma c'è il portiere Marafona Ma cazzo è il fenomeno È Maradona È Maradona però Ho pronunciato da Steve Marafona BOOM BOOM Oddio Oddio Che gol Oddio Che gol Precisione di ricerca Che gol Incredibile Ecco Guardate come feste Move Quello si rompe la gamba Lo festeggia Dai Grandi Oddio Oddio L'ha preso Abbrita il portiere 20 È un fenomeno Sto portiere Mamma mia Grande 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 Ammazza che buce di culo Che c'ha io Ma pure qua Tutti i rimpalli Vai E il tiro E No Va Grande Sempre così Li vogliamo sempre così Oh Non puoi sbagliarlo Guarda Sei messo in mezzo Sto caldo Mi ha perfetto questo Sei messo in mezzo Mamma mia Che è sta potenza Boh Non gioco più Mi sono rotto il cazzo Oh Questo era un passaggio Ho spinto X Ma guarda che li fanno tutti alti Hanno certo Non sanno che fa Li fanno tutti alti Oddio Oddio Ma guarda che cazzo fa il mio Passa sotto al pallone Cugna 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 Ma guarda che bucio di culo Cugna Sto Oddio Che culo c'hai avuto qua Ma stanzito Ma parli pure Ma io stai a zitto tutto il video Guarda Se ne va Cardoso Il tiro Prete Cardoso Cardoso Oh 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 No com'è Com'è Cardoso Cardoso Hai segnato così Di reazione mia Chi è Come si chiama Come si chiama Stojanovic Stojanovic Si disinteressa Guarda Arsenio Proprio del pallone Si disinteressa Guarda Guarda Arsenio Tira Mando vai Mando vai Mi ha preso un testa Mi manca ha fatto apposta Se ne va Se ne va Dritto per dritto Dritto per dritto E tiro Ma che tiro ha fatto Bello Bello Bella Era un passaggio A grande A grande A grande Mamma mia Mamma mia Mamma mia È venuto Papà bomba Intercettato Fa tocchetto 3 a 1 Va Se ne va Se ne va Dritto Se ne va Entra in aria Il tiro E cazzo Andiamo riprendendo Sto partito Raghi Proprio Uh No Arbitro di merda Si Arbitro moreno I coreani Vincono sempre Vabbè ragazzi Speriamo che vi sia Mi è piaciuto questo video Se vi è piaciuto lasciamo 5000 like Ci becchiamo come sempre Al prossimo Qua sotto c'è instagram Andate a darci un'occhiata E niente Seguiteci Da grabane è tutto Se lasciate 5000 like Al prossimo ci sarà Un altro video come questo Come sempre Bella Ciao 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 Ciao